Il cantiere è stato avviato e le polemiche non si sono fatte attendere. L'elettrodotto della Terna, quello che partirà da Tivat attraversando l'Abruzzo, è in fase di realizzazione. Dopo un iter iniziato nel lontano 2007, oggi il grande operatore annuncia l'intenzione di aprire le porte al confronto con la cittadinanza per rispondere a dubbi e questioni di preoccupazioni generalizzate. Credo che la risposta alla polemica sia una corretta informazione del cittadino. Noi teniamo ad avere questa giornata di dialogo, di trasparenza, in modo tale che gli elementi tecnici del progetto, del cantiere, l'apertura, la durata, le ripercussioni sul territorio, siano informazioni alla porta di tutti. Tra le smentite, quella sul rischio per la salute dei cittadini causato dalle onde elettromagnetiche. I cittadini possono stare tranquilli, questo è un progetto a corrente continua, significa che il campo magnetico che viene prodotto dal progetto è equivalente a quello del campo magnetico terrestre. È un campo magnetico al quale siamo abituati a convivere dalla nostra nascita. Poi le inibizioni per le attività di pesca, causa lavori di sotterramento del cavo, tenendo presente che il settore della pesca è senza dubbio quello più danneggiato negli ultimi anni, causa insabbiamento del porto. All'interno delle tre miglia è vietata ogni tipo di pesca che interessa il fondale, quella che si viene chiamata pesca strascico. Oltre la distanza delle tre miglia, l'unico vincolo che c'è è un'attenzione sullo spessore del cavo, stiamo parlando di 30 centimetri rispetto al mare. I lavori dureranno qualche mese sicuramente, il cantiere poserà, creerà una trincea larga a diversi centimetri, il cavo sarà collocato a una profondità di un metro e mezzo nel suolo e poi sarà ricoperto, il cittadino non vedrà niente, avrà soltanto il disagio della fase dei cantieri. Infine una precisazione, l'opera nasce dalla necessità di fornire all'Abruzzo quel 33% di consumi oggi acquistati da società nazionali e internazionali. Dunque la domanda sorge spontanea, perché non si è scelto di usare pannelli fotovoltaici? Il punto delle fonti rinnovabili è che sono importanti e fondamentali, ma ad esempio di notte il sole non c'è e il vento non è sempre presente, quindi abbiamo bisogno di diversificare le fonti per garantire la sicurezza dell'alimentazione. A sollevare le polemiche poi ci pensano i grillini in sala che affermano oggi il PD si trova al governo cittadino, ma fino a quando l'opera era stata portata avanti dalla Giunta Mascia cosa ne pensava davvero il centro-sinistra? Garantiremo, saremo sempre presenti, a che tutto sia svolto nella maniera migliore possibile. Questo abbiamo fatto in assoluta serenità, tranquillità, responsabilità, prima come amministratore di opposizione e oggi come amministratore di maggioranza che si trovano a governare atti svolti dalla precedente amministrazione.